Nicoletta Verri, ottimo risultato della Lega qui in Abruzzo, anche buone il numero di preferenze da lei ottenuto, si aspettava tutto questo? È stato un grande risultato, un grande successo, io devo ringraziare tutti i miei elettori, mi trovo adesso nell'area Vestina e quindi ringraziare gli abitanti della zona della Vestina che hanno dato questo grande consenso alla mia persona, è stato premiato la mia volontà, la mia aderenza, la mia perseveranza ma soprattutto l'attenzione che io ho avuto sempre verso i cittadini. La Lega ha avuto un grande consenso, ha avuto una grande risposta perché la Lega è il partito del territorio, sarà mio compito innanzitutto occuparmi dell'ospedale di Penne, creare quella che è una realtà importante da un punto di vista sanitario anche sul territorio, creare delle realtà importanti socio-sanitarie ma anche porre un'attenzione su tutto ciò che è il problema delle infrastrutture. Proviamo a guardare un po' più in là, facciamo un toto assessore, Nicoletta Verri potrebbe essere una di queste? Guardi, io ho dato la mia disponibilità al partito a poter ricoprire un ruolo in giunta, adesso decideranno loro. La sanità potrebbe essere un tema interessante per lei? La sanità è un tema più che interessante per me, è un tema interessante per i nostri cittadini, sono tante le lamentele, sono tante le richieste e c'è un campo dove c'è molto da lavorare.